Buongiorno, allora qua praticamente questa è quella sala consigliare, vedete qua è dove si riuniscono per cercare di mettercelo più dentro di quel servizio che ce lo vogliono mettere a loro Prima però c'era il consiglio comunale, adesso ci stanno i commissari, è diverso quindi non si riuniscono più Si riuniscono i piani superiori Vabbè voi insomma avete subito, cioè oggi che cosa è successo stamattina? Allora, l'altro ieri vengono loro, gli diamo i soldi per pagare pensioni, i soldi per Spratt e ora è subito Invece ieri sera mi sembra che vi hanno conosciuto Ieri ci hanno buscato fuori, ci hanno trovato la casa, la signora l'ha trovata la casa, la prima che l'ha trovato l'appartamento è venuto qua Buongiorno, io ho trovato l'appartamento, ci vogliono i tre piccioni così me ne vado, incominciate ad andare prima io Signor, ma quali i soldi? Come hai detto signor, i soldi che voi avete detto che ci davano i piccioni avanti e ci aiutavano a fuci fatto Signor, come c'è questa nevra? Quali i soldi? Ma chi ve l'ha detto? Ho capito, e poi mi sembra che ieri sera... No, no, gli alloggi di nuovo, non preoccupate, moriamo come si andava a fare Stamattina siamo andati alloggi, hanno bussato il porto, non li dovete andare perché il comune a noi non ci dà niente Gino, scusa, come si chiama? Grazie